La prevenzione e l'educazione sessuale incontrano le scuole medie e superiori di Napoli. Si è tenuto infatti in sala dei baroni al maschio angioino l'incontro promosso da Durex e patrocinato dall'amministrazione comunale per discutere di prevenzione sessuale. Educazione di genere, violenza e rispetto nelle relazioni e poi malattie sessualmente trasmissibili sono infatti due dei principali argomenti trattati nel progetto educativo scolastico. Temi di attualità che è necessario affrontare fin dai banchi di scuola per aiutare i ragazzi ad acquisire maggiore consapevolezza sull'utilizzo di fonti di informazioni attendibili e a proteggersi dai rischi che rapporti sessuali non protetti possono comportare. Parliamo quanto più possibile il linguaggio dei ragazzi affrontando con loro delle tematiche che arricchiscono la vita quotidiana, quindi tutto ciò che è la sfera dell'intimità, della sessualità e rapporti di coppia. Lo presentiamo oggi alle scuole che sono intervenute e dall'anno prossimo con l'inizio dell'anno scolastico partiremo perché vogliamo spiegare ai ragazzi, accompagnarli, non lasciarli soli, stare insieme alle famiglie quali sono gli effetti degli affetti, cosa vuol dire amare, cosa vuol dire essere in relazione con l'altro, farlo in sicurezza affondando quindi le tematiche della prevenzione ma soprattutto del rispetto degli altri. Stamattina facciamo questo incontro con illustri personaggi, parleremo di prevenzione sessuale, di educazione sessuale, di bullismo, di come gestire anche la rete, il web perché anche lì possono esserci strane cose per cui vanno educati, vanno informati i ragazzi, ma poi sarà un modo per fare due chiacchiere con loro, io sarò a disposizione e portare gli esempi perché con gli esempi, con il comportamento è l'indicazione più forte che possiamo dare noi ai ragazzi. Perché noi siamo una specie abbastanza strana, in senso che non impariamo la sessualità facendola ma la impariamo sentendola, quindi ogni generazione deve ricominciare da capo, a capire come si fanno bene le cose e non abbiamo mai finito quindi di insegnare. Facciamo tanti pasticci in sessualità, quindi la prevenzione è fondamentale a tutti i livelli, prevenire le malconoscente su come siamo fatti, per evitare che tutte le persone pensano di avere dismorfismi sessuali o fisici che rendono una vita infelice nonostante una fisicità normale, insegnare come funzioniamo realmente per evitare che dei miti di superomismo poi abbiano gravi conseguenze nei rapporti tra le varie persone, fra il maschio e la femmina, insegnare come funzioniamo diversamente per prevenire insomma certe forme di bullismo, di discriminazione fra le persone che pensano che una variante sessuale sia una grave malattia o qualcosa che dobbiamo combattere con la violenza e soprattutto prevenire le due cose classiche, cioè le gravidanze indesiderate e le malattie sessualmente trasmesse, alla quale si è aggiunto in questa generazione la terza grave pericolo che è quello del danni che la informatizzazione della sessualità comporta nelle giovani generazioni per la prima volta, questa volta abbiamo una grandissima sfida, cioè gli educatori ne sanno meno degli educati su un campo così fondamentale per la sessualità come la via informatica per trarre informazioni grazie buildi